Senti Simone, oggi tre gol, due di due veterani di questa Roma e uno di un esordiente. Che mix si sta creando e in questo anche che merito ha il nome Norone? Forza Simone! Dicevo prima, facevo una parte, dicevo forse il vecchio che va e il nuovo che avanza. Siamo molto felici per Romagnoli, perché è un ragazzo che ha buonissima qualità. C'è Marcos, che ha più o meno la stessa età, che sta facendo delle cose egregie, ma lui non è da meno. Stasera l'ha dimostrato facendo una grandissima prestazione, non era semplice, ma poi l'ha saputo nelle ultime ore. Invece lui l'ha fatto con esperienze, sembrava un...